Grazie a tutti E' come questa mattina sono scesa giù E ho fatto la spesa e poi niente Corrino Io ho preso più o tre Insomma sono sette piani Tanto è Amarziotti Ti abbiamo voluto far fare Una salita in più di scale Guarda Eh fatti spiegare da lui Ciao Aspettate Eccomi sono pronto Vengo Ma queste sono foto Di un amico Che mi ha petito Ah ecco Appunto vedo guarda Bianco e nero Dicono che è bianco e nero Ma molte erano veramente belle Ecco che fanno un po' Quasi enticate Sì 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 Però il bianco e nero Io sono un amante del bianco e nero Eh Ma di la verità mi piacciono di più Ha il telefono Sì la cabina È una squadra di amici È bella ragazzetta È bella affiatata È bello Guarda così Mi sa che è meglio Quando ti guarda Altrimenti prende tutte Quanta 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 C'è un amico che di macca Arriva proprio alla corsa Ma domani Che è questo? No è quell'amico suo Ma mia È lungo un chilometro È lungo Si finisce mai? Ebbè Ne ha troppo Un po' Fermi un po' Fermi un po' Piscina Ma è un massimo Piscina Siamo noi Siamo noi Davanti C'è andato il pincardino Eh Da tanto Saranno una ventina d'anni Alla ginnasta No facemmo qui 15 giorni Ma no Abbiamo fatto già qui la prisma Eh si Quando è stato? Un'è 90 Una decina d'anni fa No Apri apri Strappa tutto Apri 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 Noi non abbiamo portato niente Ma hai portato le foto Quello è già Eh ma no Noi sempre notiamo le nuove Che fai di cuore Senti non credo che dipenda dall'età Ma non riesco ad aprire Aia Iniziamo bene Segno brutto Pensa che la truppa Siamo andata in Perugia Non l'ha lasciato aperto il garage Tutto il giorno Ieri mi dici qua Soprame Angelo Che è successo? Angelo Che è successo? Vediamo 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 Tantantantant Tantantant C'è sfondato E il sistema da te era di entro Grazie 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 Massimo Grazie 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 Cento e uno Aspetta Cento e dieci A te Attene Grazie A te Allora vai Carino Allora La capitale ci dobbiamo sincronizzare Concentratevi Dottor, dacci il 3, avvicinati, avvicinati, e dico uno, uno, e dopo il due, e tre, vai, ammazza che forza, che forza, ha fatto capire uno, Grazie Massimo? Ha scritto prima Ah, Massimo Rino, vabbè Massimo Rino, vabbè Massimo Rino, vabbè Volevo le parlo, Scalaboglio Massimo Rino Che colori, che pavolosi Ma non so se hai capito, di buona specie per il derby, eh Eh, che ne vediamo Il giallo-rosso è evidente No, no, mettono, a ridargli è quell'uno Oh, si trova Oh, mi sa che sono dieci in due, mi sa Dai Ma leva l'uno e mi fai ieri E portavo via Pronti? A ben 110 anni si fa ancora di adesso Vai, vai, apri la bocca Buona prima Lo sganazzone, sganazzone Anche peggio dal volta, quando fai i capricci Buona prima Manda giù tutto Chi è più ragazzina a casa Massimo? Eh, due Rino, per fortuna che io sono la mia lontano, vedi Il tuo brazzo, il tuo maraviglio Filo ferro Ragazzi, non c'è più Ah, c'è stata l'altra la giornata Era finita? No, ma dico, era finita Si No, è troppo crema Ma io Anna Eh, ma Anna Questa è l'annunione Eh, lo so Ma ti gliel'ha detto Lui voleva fare un'altra cosa Tanto lo so che lui vuole vedere il goccio Ecco Ecco Com'è l'avventura Ecco Adesso potete vedere Inlegante Adesso potete vedere L'anziano Anziano Che Nelle sue Nelle sue attività preferite Mangiare e bere Ah, hai capito Che mamma Ma Ti vedi a preferire Vabbè Ha un po' il cuore È una fantasia C'era un po' l'accostamento giallorosso Con la faccia di Donino E il giallo delle C'era un po'... Bravo Bravo C'era l'altra parte Abbicinate Eh Avvicinate Allora Tu che sei l'erede di famiglia Nazioniotti Questo è il peso percentuale Questo è il peso 1 1 0 Un bel tondo Un bel tondo che c'è Un bel tondo Addio Eh, vale parecchio comunque abbiamo voluto fare la concessione c'è un bel putteggio la rote è colata c'è un bel putteggio tondo 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 o tonto tondo inizia a camminare non c'è più arrivederci grazie grazie se mi dovessi presentare se mi vede qui qualche giorno paga lui ha fatto ha fatto ha fatto ha fatto attento alle macchie sei sulla fermata nel lato vinto vinto mese non è il profilo dal siero proprio no ma io a piedi grazie 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 guarda che pancetta che è? rinodi dimmi un pochettino che stiamo verso il 15 gennaio quanti gradi esterni? esterni 7-8 gradi ah e penso a post inverno queste mete no 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 grazie